O Gesù, il soldato sotto la croce prese la lancia e ti travisse il cuore e da quel cuore squarciato uscì sangue ed acqua perché si arrempissa la scrittura e tutti guarderanno a colui che hanno trafitto. Gesù, questa mattina vogliamo che si compie in noi questa scrittura, vogliamo guardare al tuo cuore trafitto da cui sgorga sangue ed acqua e ti presentiamo le nostre ferite. Ti presentiamo innanzitutto le ferite del peccato personale, quelle ferite che ci mettono in angustia, quelle ferite che portiamo per le tante e tante ricadute, quelle ferite che portiamo per i peccati che non possiamo eliminare, che non abbiamo la forza di eliminare che ci umiliano davanti a te. O Gesù, noi presentiamo queste ferite davanti a te, le ferite dei nostre peccate dei nostri peccati. Siamo piedi di peccati, o Signore, dalla pianta dei piedi fino al capo è tutta una piaga. Quante ferite, non unto con olio, non unto col bassamo. Noi ti presentiamo queste ferite, o Signore, perché la tua grazia scenda su queste ferite. Ti presentiamo le ferite delle nostre ricadute. Ti presentiamo le ferite delle nostre tendenze. Ti presentiamo le ferite di tutti i dei nostri peccati ripetuti, delle nostri peccati ripetuti, delle nostre debolezze che ci applicano e di cui non siamo stati capaci di allontanarci. e queste ci fanno soffrire. Sono ferite profonde. Sono piaghe che noi portiamo. Signore, versa ancora il vino della speranza. Versa ancora l'olio della consolazione sulle nostre ferite. Te ripresentiamo, Signore, perché noi possiamo essere guariti dalle te piaghe. Tuo Signore, rimargine queste ferite profonde che sono dentro di noi a causa dei nostri peccati. Tu ci dai la gioia della consolazione. Le te piaghe saranno rimarginate, saranno cicatrizzate per il tuo sangue prezioso che sgorga su queste ferite. Le nostre piaghe saranno lavate dall'acqua del tuo spirito che sgorga dal tuo cuore. Signore, Gesù, fa sgorgare ancora l'acqua che ci lava, il sangue che ci purifica e ci rinnova. Ti presentiamo le nostre ferite, le nostre piaghe causate dai nostri peccati personali, passati e presenti, delle nostre tendenze malvagie, dei nostri vizi capitali che sono ancora in noi e che ci fanno soffrire. Signore Gesù, offriamo il nostro corpo piegato a te perché tu lo risani, il nostro corpo spirituale, il nostro cuore malato. Ce lo offriamo a te, o Signore Gesù. Siero dato e ringraziato ogni momento. Siero dato e ringraziato ogni momento. Siero dato e ringraziato ogni momento. Signore Gesù, noi ti presentiamo le piaghe ricevute dagli altri nelle case dei nostri fratelli. Da che cosa sono derivate queste piaghe dette in Zaccaria? Come mai queste piaghe nelle tue mani? E il profeta risponde, l'ho ricevuta nella casa dei miei fratelli, nella casa degli amici. Signore quante ferite dentro il nostro cuore, ferite che ci hanno dato gli altri con una parola, con un gesto, con un atto inconsulto. Quante persone ferite, fratelli e sorelle in mezzo a noi, quante tradimenti, quante insulti, quante calunnie, quante frustrazioni, quante sgambetti, quante oppressioni, quante persecuzioni. O Signore, noi ti offriamo le nostre piaghe che hanno ferite profondamente il nostro cuore, hanno rovinato la nostra vita, hanno amareggiato la nostra esistenza. O Gesù, tutte queste ferite del cuore, a causa delle peccate degli altri, noi te le offriamo. Ti offriamo le ferite ricevute in famiglia, nell'infanzia, nell'adolescenza. Ti offriamo le ferite ricevute nelle relazioni con gli altri, nella prima giovinezza, nella seconda giovinezza. Ti offriamo di Dio, che tu sei figlio di Dio e che tu mi guarirai. Gesù, io spero nella tua parola, mi colpisca la tua parola ed io sarò guarito. Gesù, io perdono tutti tutti quelli che mi hanno fatto del male, perdono mio padre e mia madre, perdono i miei fratelli, ed io sono sicura che tu mi guarirai. Uomo di Galilea passa, passa in mezzo a noi. Toccaci, oh Signore, con la tua mano onnipotente, il tuo cuore palpita di amore. Per me che sono inferma, toccomi, oh Signore. Ci presentiamo al Signore noi tutti che abbiamo dei mali nel capo, negli organi del capo, alla cortezza cerebrale, alle orecchie, al timpano, alla gola, alla lingua e agli occhi. E gridiamo all'uomo di Galilea, ti prego di toccarmi. Il Signore tocca una gola e una lingua impaffinata che si scioglie. Ecco, il Signore caccia lo spirito muto e allora se c'è questa persona che ha un male lancinante alla gola e adesso non ce l'ha più e chi aveva la lingua impaffinata, arsi la mano. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Due persone hanno male all'udito, una otite secca da diverso tempo e un reuma all'udito che crea fastidio. Tutte e due le persone sono toccate e guarite. Prego di identificarsi queste due persone. Una, due. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù. Adesso offriamo al Signore, il Signore continuerà a guarire però, alla cortezza cerebrale. C'è una persona che sente dolore alla cortezza cerebrale, è una persona che si lamenta per i capelli. Tra tre mesi i capelli cresceranno bene e la cortezza cerebrale dell'altra persona in questo momento è rinfrescata, non sente più il dolore. Prego la persona di identificarsi, cortezza cerebrale, grazie, grazie, grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Signore, ti presentiamo gli organi del petto, del busto. So, Signore, che tu guarderai un polmone infiltrato, un polmone dove si è annidato qualche germe. Tu lo stai espungendo. Grazie Signore perché tu hai toccato questo polmone in questo momento. Ecco, grazie Signore Gesù. La persona che ha affetto di questo male grave, sia contenta perché il Signore l'ha toccato. Se puoi identificarsi, si identifichi questa persona. Ecco, è una persona che ha un male al petto, un'infiltrazione. Signore, tocca e guarisce. Se la persona vuole identificarsi, si identifichi. Il segno è che sente un colpo al petto. Hai sentito un colpo al petto? Grazie Signore Gesù. Una cirrosi epatica viene toccata dal Signore. Ci sono tre persone con cirrosi epatica qua dentro, ma una viene toccata dal Signore in questo momento e sento uno sgonfiore al pegato. Prego la persona di identificarsi, persona con cirrosi epatica. Cosa hai sentito tu? Do un colpo alla... Grazie Signore Gesù, migliorerai poco a poco. Il tuo cuore è malato. Il tuo cuore è malato, è malato spiritualmente e anche materialmente. Ma io lo guarisco. Confessati, migliorerai nel cuore fisico quando il tuo cuore è malato spiritualmente, sarà guarito attraverso la confessione. Man mano le persone cominciano ad identificarsi, bene, c'è un male all'inguine purulenta ed è, il Signore guarisce, è una donna di mezza età, male all'inguine con escrezione purulenta. Se vuole, lo dica, se non vuole, fa lo stesso. Certamente il Signore ha guarito. Sì, proprio il colon discendente. C'è un colon discendente che il Signore guarda. C'è un male che da diverso tempo attanaglia questa persona. Il Signore tocca e guarisce questo male che è grave al colon discendente. Signore, tu stai toccando l'utero di una persona che è spastico e impedisce a questa persona di generare. Signore, tu stai toccando l'utero che si ammorbidisce e questa persona è in grado di concepire. Signore, tu stai toccando un vibroma, un vibroma di una persona molto giovane, sui 30 e 35 anni, troppo giovane. Ma il Signore tocca e guarisce. Se la persona ha sentito un colpetto proprio nella parte dolorante del vibroma che è proprio nel centro e un'altra persona che è stata toccata all'ovaio destra, queste persone, se credono, possono identificarsi. Era una ciste all'ovaio destro e un vibroma all'utero. Queste persone, se vogliono, possono identificarsi. Hanno sentito un colpo del Signore, il tocco dalla mano del Signore. Vediamo se vogliono identificarsi. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Un dolore al coccice che dura da tanto tempo. La persona stenta a sedersi, ma il Signore tocca e guarisce. Che in questo stesso istante il Signore la tocca ed essa non sente più questo dolore al coccice. È una donna. Se vuole identificarsi bene, altrimenti può scrivere per un'altra volta. Signore, noi ti ringraziamo, continua a guarire. Cantiamo Uomo di Galilea, ti prego di toccarmi. Signore, ti presentiamo gli arti e ti presentiamo queste arti che tu stai toccando. Stai toccando un braccio anchilosato che stenta ad articolarsi. È una rotola proprio della gamba destra. Tu stai toccando e stai guarendo queste persone, vediamo, quella del braccio e quella della gamba. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Signore, tu dici che c'è una caviglia, una caviglia dolorante che non si articola bene. Tu la stai guarendo. Chi ha la caviglia che non si può muovere e stenta a fare i movimenti e senta adesso libera, liberissima la caviglia, tanto che si può muovere senza dolore. che questa persona si identifichi. Caviglia, caviglia. Come ti senti? Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Il Signore continuerà a guarire durante questa nostra preghiera. Ci saranno altre guarigioni fisiche. Man mano il Signore che ci farà comprendere o direttamente alla persona oppure indirettamente attraverso qualche dono di conoscenza. Intanto preghiamo per le oppressioni. Ci sono delle persone oppresse, delle persone che hanno confusione in testa, confusione in testa. Questa mattina sono tutte qui e ancora hanno confusione in testa. In questo momento il Signore tocca la testa, non hanno più confusione, si sentono completamente libere. Due persone. Grazie, 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 Signore. Grazie, grazie, Signore. Un'altra persona si sente appesantita perché è depressa. Adesso si sente leggerissima, come una piuma, quasi può volare. Una cosa istriegabile, chi è questa persona che è rappresentita di essere leggera come una piuma. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Signore, preghiamo per questa nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di nostra sorella. Tocca, Signore, gli occhi di questa sorella e alleggerisci il suo dolore, atteno al suo difetto, fa che veda qualche cosa oggi stesso. E allora domandiamo al Signore che continua a guarire nello spirito. L'hai fatto una grossa, figlia mia, l'hai fatta grossa, l'hai nascosta, però io l'ho visto quello che hai fatto. Pentiti, confessati. Tu in questo momento sei colpito, tu in questo momento sei addolorato. Io ti perdono, va a confessarti, nessuno saprà quello che hai fatto. Tu che confide nei soldi, non sono i soldi che ti possono salvare. E la mia grazia che ti salverà, io ti verrò incontro, confide in me, io aggisterò il tuo caso. Signore mio Dio, vieni qui in mezzo a noi questa mattina ed opera, tocchi i nostri cuori. Signore, tu dici a tre persone che sono andate da maghi, che hanno salite scale proibite. Una scala di una scala di una nota maga che va alla televisione, ti ha ingannata, ti ha tolto il denaro e tu sei peggio di prima. Pente da davanti a me, e poi i due altri che sono andate in maghi di secondo ordine, anche queste ti hanno ingannato, ti hanno tolto dalla tasca del denaro. Non andare più, altrimenti sarà la vostra perdizione, voi tre persone. Tu che sei andata da Redi Barbara, tu che sei andato da altre due maghe, il Signore, il Signore ti perdona se ti confessi il tuo peccato. E tu che hai mandato qualcuno da un mago per guarirti. Non mandare più nessuno, vieni dal Signore, lui soltanto può guarirti. E adesso, fratelli e sorelle, mettiamoci tutti davanti al Signore. Ringraziamo di quello che Egli ha fatto e che continua a fare. E presentiamo al Signore tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno chiesto, attraverso il telefono lettera, la preghiera di questa comunità terapeutica. Mettiamo davanti al Signore tutte queste persone che hanno da posto le loro suppliche. Ma il Signore continuerà a guarire. Quando telefonerà questa persona, dite che il Signore ha bloccato il tumore che ha al rene. Signore, adesso ti presentiamo tutti gli ammalati. Signore, tu ci avverti di conservare le tue parole dentro il nostro cuore. Tu vuoi seminare dentro il nostro cuore la speranza. Fa che recepiamo queste parole di speranza dentro il nostro cuore. E queste parole verranno a tempo opportuno il loro frutto. Signore, ti presentiamo tutti questi nostri cari fratelli. Ti presentiamo tutte le loro afflizioni. Tutti i loro problemi morali e spirituali. Ti presentiamo le loro famiglie. Signore, porta la pace, la serenità nei frangenti in cui essi si trovano. E dà la libertà a un prigioniero che interessa una persona che vi presenta. Adesso ci alziamo e gridiamo al Signore la nostra fede perché Lui è colui che guarisce. Io sono il Signore che ti guarisco.